Andiamo subito a Palermo senza ulteriore prologo. Prima già vi ho detto cosa significa questo 19 luglio per l'Italia intera e dunque voglio immediatamente prima di tutto salutarlo il nostro frate Cappuccino ospite Fra Mauro Billetta che è in un luogo all'aperto di questa meravigliosa città non solo siciliana ma italiana mediterranea francescana aggiungi un aggettivo Fra Mauro buongiorno. Face bene è densa di bellezza e di complessità perché insomma il quotidiano è abbastanza travagliato ma davvero la possibilità di andare oltre le apparenze e contemplare quella sintesi di cultura e sintesi di bellezza che ci viene proposto ogni giorno proprio dalla nostra Palermo e diventa forza per sognare guardare avanti e sicuramente contribuire al processo di trasformazione di crescita di cambiamento. Ecco tu sei protagonista ma prima ancora di arrivare alle vostre belle iniziative a Danisini vorrei subito chiederti dove ti trovavi 32 anni fa quando hanno ucciso Paolo Borsellino. Ero a Monreale il mio paese natio la notizia è arrivata proprio come davvero un qualcosa di assurdo inaudito siamo rimasti disorientati Monreale è attaccato a Palermo quindi a pochi chilometri era successo un fatto che avrebbe segnato insieme chiaramente anche alla strage di Falcone nell'autostrada avvenuta prima ecco avrebbe segnato la nostra storia la storia dei giovani di allora che avevamo 22 anni quindi significava per noi assumerci la responsabilità di un cambiamento perché testimoni incredibili si erano spesi sino alla fine poi l'anno successivo Doppino Puglisi maestro di vita quindi chiaramente le provocazioni avevano bisogno di una risposta. Fra Mauro subito però una domanda scomoda ti devo fare tu sicuramente visto che avevi 22 anni eri già inserito nella chiesa hai giudicato che non facesse abbastanza quando tu eri negli anni magari dell'adolescenza vi rendevate conto che ci voleva un impegno in più oppure viceversa hai vissuto con orgoglio anche la tua vocazione proprio per quello che la chiesa faceva dal punto di vista civile? Allora sicuramente ogni giorno sentivamo la responsabilità di quello che era un processo di trasformazione di crescita della nostra Palermo e non solo di tutta la terra di Sicilia di Ocnessi di Montreale abbraccia territori come Corleone, San Giuseppe Iato quindi sentivamo urgente la possibilità di annunziare il mangelo e quindi poterlo vivere in modo credibile. Io ancora non ero in convento sicuramente quei fatti e anche l'assassinio di Doppino Puglisi per me segnarono una decisione importante di vita cioè rispondere attraverso quello che è il cammino di consagrazione però ecco come comunità ecclesiale come giovani di allora sicuramente c'era un grande fermento quello che poi scaturì nella primavera di Talermo un fermento che diceva che assolutamente il mangelo doveva essere incarnato non poteva rimanere su un piano dottrinale o comunque teorico partire proprio dalla vita dal quotidiano per poi ecco rivelare la bellezza di quello che è la nostra fede. A proposito di bellezza vediamo anche qualche immagine con l'aiuto proprio di alcuni video che ci avevi segnalato di questo quartiere arabo che è Danisinni in cui tu operi nella parrocchia dedicata a Sant'Agnese e la Martire immagino. Raccontaci un po' spiegaci queste immagini. Danisinni è un microcosmo, è un quartiere storico, un rione dalle radici arabe e nel cuore di Palermo siamo 800 metri dal Palazzo dei Normanni quindi un luogo che per tanti anni è rimasto dimenticato dimenticato dalle scelte politiche della nostra città e quindi anche dimenticato dalla gente non si serveva più dell'esistenza di questo rione che è all'interno delle grandi quartiere della Zisa e allora pian piano la comunità ecclesiale, 11 anni fa sono diventato parroco e ecco che si è sbracciata per far sì che quel luogo e quindi anche le persone che sono legate a quel luogo potessero avere il riconoscimento di un volto, un volto che era assolutamente misconosciuto e quindi questo significa mancanza di servizi basilari per far sì che ci possa essere una qualità di vita buona e la comunità parrocchiale che da sempre è stata sensibile alle problematiche del territorio a quel punto ha iniziato tutta un'opera di riqualificazione dei luoghi e dei luoghi anche pubblici per far sì che si potesse creare una sinergia legata appunto alla bellezza, alla cura del bene comune, alla cura insomma dei luoghi da abitare insieme e quello che vedete ad esempio era la fattoria comunitaria, un luogo che ci è stato affidato da una famiglia quindi di privati e che attraverso l'ausilio, il lavoro dei parrocchiani, dei volontari ma anche oggi delle persone che hanno una misura alternativa alla detenzione è un luogo di cura, un'oasi paesaggistica all'interno della città quindi il rione oggi accoglie della città offrendo degli spazi di natura, dei spazi anche di gioco e di aggregazione che dicono che è possibile, è possibile provare risorse, provare insomma qualcosa di assolutamente coinvolgente, bello anche in contesti che altrimenti sarebbero stati etichettati secondo una nomea di periferia insomma che altrimenti non avrebbe nulla di interessante. Ecco noi abbiamo anche potuto usufruire appunto di queste immagini e attraverso un marchio che vedo che mi sembra significativo Heroes Never Sleep è scritto, cioè gli eroi non dormono mai ma in realtà noi vorremmo che il nostro paese come diceva un famoso drammaturgo tedesco non avessero più bisogno di eroi che non dormono mai perché ci vorrebbe un maggiore spirito civico appunto e di cittadinanza autentica quindi con il suo corredo di legalità e di difesa della legalità a livello diffuso. Poi se uno vuole fare l'eroe magari lo può fare in un'altra maniera, che ne pensi? Assolutamente, noi sappiamo che il nostro processo di rigenerazione urbana si fonda sul contributo di tutti, non c'è il protagonismo di uno, bensì lo spirito di comunione che permette a ciascuno di dare il proprio contributo. Noi assolutamente rifugiamo questo termine, non è una questione di un eroe singolo ma una comunità che si assume la responsabilità dell'autenticità del Vangelo. Il cambiamento possibile all'interno della nostra città ma non solo Palermo è il frutto della parte, come diceva Don Pino Puglisi, a noi tanto caro, il contributo di ciascuno. Se ciascuno davvero fa qualcosa ecco che pian piano ci sarà una nuova rifioritura e la giustizia si realizza proprio così, a partire dalle piccole cose, responsabilità di ogni cittadino e il nostro accompagnamento delle nuove generazioni è proprio in tal senso, cioè restituire il diritto al futuro, quindi possibilità di studiare, possibilità anche di sognare, coltivare i propri progetti di vita, ma al contempo far sì che i nostri ragazzi possano assumersi la responsabilità di una cittadinanza attiva. Un modo quindi di partecipare alla causa della giustizia, del bene comune, chiedendo anche riscontro alla pubblica autorità, alle amministrazioni locali, cioè c'è una logica di responsabilizzazione che in questi anni ci ha feriti, ci ha assolutamente anche rallentati in quel processo di crescita. Noi come comunità parrocchiale, anche i centri educativi del territorio, il centro Tau, abbiamo dovuto lottare per la riapertura di un asilo unito. Pensate, se non ripartiamo dai presidi educativi, partendo proprio dai primissimi anni di vita dei piccoli, noi non potremo avere dei processi di trasformazione efficaci, perché la logica attuale è una logica che si fonda su progetti spot che assolutamente non determinano crescita nei territori. Invece abbiamo bisogno proprio di un percorso che vede in un continuum la crescita appunto degli individui, che veda anche sicuramente il contesto dove vivono e quindi ci si attivi per dare dei strumenti insomma basilari. Faccio un riferimento, noi abbiamo creato in parrocchia la biblioteca di quartiere perché i piccoli avevano bisogno di uno spazio dove studiare e anche un gruppo di educatori per essere accompagnati, perché la scuola non è capace, non ha strumenti quando ci sono dei bimbi che crescono per strada, vengono diagnosticati insomma in modo anche sommario come i perattivi e quindi escusi da quello che è l'iter scolastico ordinario, quindi non reggono la nessuna frontale ma questo non è che è un problema. Non racconti nulla di nuovo, noi siamo contenti ovviamente che poi le responsabilità siano di fatto indossate da persone come i francescani, per cui magari i cittadini italiani verranno anche migliori rispetto a quello che accadrebbe se semplicemente le amministrazioni locali o lo Stato se ne occupasse. Però resta il fatto che troppo troppo una Sicilia che come sappiamo è una regione a statuto speciale che dispone di somme, di cifre di finanziamenti imponenti e forse la gente questo non lo sa, continui appunto a in qualche modo giustificare tante carenze. Ovviamente questo lo dico io, tu giustamente magari non vuoi puntare il dito, fai il tuo splendido servizio, però volevo dire a proposito di istituzioni che proprio c'è da commentare secondo me questa dichiarazione di una delle figure importanti del nostro paese in questo periodo, perché Carolina Varchi è segretario di presidenza alla Camera dei Deputati in Commissione Giustizia, capogruppo, e aveva otto anni e ha voluto naturalmente ricordare, perché è palermitana, come si è sentita, come quel fatto ha cambiato la sua vita e naturalmente diciamo i suoi accenti sono ancora più autentici rispetto ad esempio a quello che ha sempre raccontato Giorgio Ameloni, che bene o male era a Roma, invece Carolina si trovava da bambina proprio a Palermo. Quindi Borsellino, che sappiamo aveva un impegno proprio non mascherato nell'ambito culturale di destra, ha lasciato una grande traccia. Noi oggi continuiamo giustamente a dire a tutti, lo ricordiamo, lo conosciamo, la strage di Via D'Amelio, il metodo Falcone, il famoso follow the money, che poi Borsellino aveva già cominciato a insegnare anche agli altri in un'epoca in cui non era certamente facile appunto trovare le tracce di tanti cammini di morte e quindi arrivare a quei maxi processi che sappiamo. Secondo te appunto, ritornando ai giovani e ai ragazzi, in questi giorni c'è stata un'altra assemblea da parte dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, per tre giorni un evento Legalità e Libertà. Cosa stanno imparando da Francesco D'Assisi? Che cosa veramente li può cambiare? Sicuramente uno spirito di fraternità, non di fratellanza che include alcuni ed esclude altri secondo la logica di lobby di potere, lobby in sonda in cui gli amici sono alcuni. La fraternità ci spinge ad accogliere tutti, nessuno è escluso. I giovani sono molto sensibili devo dire a quelle che possono essere le marginalità e quindi le inchiustizie sociali. Credo che la testimonianza di Francesco D'Assisi ci dia anche un rispetto di quella che è la gradualità della crescita. Oggi la fragilità personale, l'inadeguatezza o meglio il bisogno di apprendimento che è proprio della crescita, viene in un certo qual modo stigmatizzato, deriso. Ci sono tanti fenomeni anche di violenza, mentre i giovani riconoscono che la fragilità e gli viene restituita proprio al nostro annunzio, è un elemento che fa parte della propria vita. Francesco D'Assisi dice che con umiltà, con il passo quotidiano, è possibile crescere, è possibile costruire, è possibile scoprire anche il dono del proprio talento, la propria ricchezza personale e quella di ciascuno viene a contribuire alla bellezza di tutti. Quindi fraternità proprio intesa come possibilità di riconoscere a ciascuno il suo. E questo credo che sia molto bello. Noi dobbiamo risentirci, Fra Mauro, perché non ho avuto modo di spiegare bene tante cose che state preparando e che avete già vissuto e soprattutto perché noi vogliamo mantenere veramente un filo sempre tra noi e la Palermo splendida di tutto quello che abbiamo detto all'inizio. Grazie dunque a Fra Mauro Birletta, ovviamente lo trovate sui social, trovate un'infinità di materiale su Danisini e ci sentiamo uniti oggi in particolare. Pace bene. Sempre. Pace bene. Pace bene a voi. Buona missione quotidiana. Grazie. Ciao. Grazie.